Di solito quando si parla di Benedetto Croce e delle sue tante amicizie con altri intellettuali è giocoforza citare l'amicizia con Giovanni Gentile che durò in pratica un trentennio e cioè dal 1896 fino al 1924 quando poi intervenne il regime fascista e Mussolini e i due appunto diciamo così fecero scelte diverse Giovanni Gentile portò la filosofia al potere e invece Benedetto Croce portò la filosofia all'opposizione tuttavia parlando della vita e dell'opera di Croce vi è un'altra amicizia sulla quale ci si sofferma a volte poco e soltanto con rilievi polemici e questo è un errore e cioè l'amicizia tra lui e Luigi Einaudi un'amicizia che non durò un trentennio ma che durò nella sostanza tutta la vita di Croce e che ebbe poi una importante collaborazione tra i due negli anni che vanno dal 1943 al 1945 che va da sé sono anni decisivi nella nostra vita nazionale e naturalmente anche dopo quando Luigi Einaudi divenne presidente della Repubblica dopo che Croce rifiutò di diventare presidente della Repubblica il rapporto tra i due è legato a quella che si chiama famosa polemica tra il liberista Einaudi e il liberale Croce e tuttavia come cerco di mettere in luce nel mio testo Croce ed Einaudi la polemica in realtà tutto fu tranne che effettivamente una polemica sterile perché fu invece una discussione molto civile tra i due laddove Croce guardava l'aspetto della libertà potremmo dire da un punto di vista filosofico e storico e Einaudi la guardava da un punto di vista invece dell'economista ma i due alla fine si intesero sì, i due alla fine invece si intesero perché oggi possiamo dire che non ci troviamo in un regime di libertà senza che vi siano allo stesso tempo le libertà economiche e le libertà civili le due forme di libertà devono essere sempre tenute insieme sappiamo infatti che ci possiamo trovare di fronte a delle situazioni in cui vi è una libertà economica e allo stesso tempo viene negata invece la libertà politica del resto lo stesso termine di liberismo venne messo in questione non solo da Benedetto Croce ma venne messo in questione anche dallo stesso Einaudi che preferiva invece parlare di soluzione economica concreta e in questo Einaudi era molto bravo e allo stesso tempo molto onesto peraltro sulla base tanto della sua scienza economica quanto della sua esperienza concreta era molto bravo nel capire che l'intervento della politica o l'intervento del giudizio politico è importante per stabilire un ponte tra la scienza economica e la situazione concreta nella quale si va ad operare ma vengo alla conclusione di questa piccola nota dobbiamo tenere presente anche un altro aspetto e cioè che il dibattito e il confronto tra Croce e Einaudi avveniva negli anni del regime fascista quando i due sulla loro testa non solo avevano appunto la dittatura mussoliniana ma il loro riferimento era le mostruosità totalitarie che erano presenti in Europa e nel mondo quindi diciamo che il loro termine di riferimento non era sicuramente le nostre polemiche molto più piccine e più spicciole ecco bisogna sempre tenere presente questo quando parliamo dei due massimi esponenti del liberalismo italiano Benedetto Croce, Luigi Einaudi grazie a tutti